giorgia meloni si lamenta si lamenta di matteo salvini perché matteo salvini ha deciso che i parlamentari della lega si devono chiudere dentro il parlamento capito no 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 come i tempi dell'aventino quando dei parlamentari uscirono dal parlamento e andarono sull'aventino per protesta no no matteo salvini ha deciso che i parlamentari della lega si devono chiudere chiudere dentro il parlamento e giorgia meloni non è contenta si lamenta perché giorgia meloni dice che matteo salvini non l'ha informata non l'ha informata o i sondaggi i sondaggi fanno dei brutti sterzi cari amici sondaggi perché gli ultimi sondaggi danno la lega in calo in down giù 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 chissà perché chissà perché chissà perché matteo salvini dice che non ci crede i sondaggi però era tanto bello quando i sondaggi davano la lega sopra il 30 sopra il 40 per cento beh insomma siccome adesso i sondaggi danno la lega down giù e anche i fratelli d'italia giù adesso litigano litigano perché giorgia meloni dice a matteo salvini matteo salvini ma perché non me l'hai detto perché non l'hai concordato con me il fatto che tu i parlamentari leghisti li vuoi chiudere dentro il parlamento per protesta contro giuseppe conte contro giuseppe conte beh giorgia meloni sai che ti dico io la cosa più bella cara giorgia meloni è che tutti i parlamentari leghisti tutti i parlamentari leghisti che si chiudono dentro il parlamento per protesta contro giuseppe conte si procurino ogni parlamentare leghista si procura una copia di questa opera storico mitologica e mentre sta chiuso dentro il parlamento la lega quest'opera così il tempio passa velocemente neanche se raccolgono nel passaggio dal tempio capito giorgia meloni e anche tu giorgia meloni procura di una copia di questa opera storico mitologica così dimentichi ciò che dicono i malvagi sondaggi va bene giorgia meloni va bene matteo salvini ok cari amici io la notizia ve la metto come lì nel riassunto di questo video perché io sono serafino massoni e io non fingo ipotesi va bene a tutti i tanti cari saluti da serafino massoni